Dall'illusione alla realtà, ebbene sì, la Lazio si era illusa di avere possibilità di arrivare in finale recuperando appunto i due gol dell'andata alla Juve, ma poi sul più bello è una Lazio che forse non lo so se sono state le energie spese, non lo so, però dal momento che segna il secondo gol la Lazio lo vista un po' in calo, sempre più in calo fino a che Allegri si sveglia un po' come a Cagliari e mette le tre punte davanti e arriva quel gol, quel gol che basta, quel tanto che basta alla Juve per appunto perdere sì 2-1 ma andare in finale, andare in finale dove troveranno la vincente di Atalanta e Fiorentina di domani sera vedremo, io obiettivamente da Atalantino vi dico ho più piacere di avere una Juve in caso di finale e forse anche i Fiorentini hanno più piacere di avere una Juve in caso di finale piuttosto che una Lazio perché comunque giocare la finale in casa è sempre comunque, poi noi avevamo dei precedenti con la Lazio non simpatici ma di noi ne parleremo domani perché ancora è una partita da giocare, da recuperare, tutto è possibile comunque penso e ripeto parlando anche per i Fiorentini che abbiano più piacere di incontrare la Juve che la Lazio, vedremo detto questo cosa c'è da dire, c'è da dire la solita Juve poco bella, una Juve poco bella che però parte meglio, è una Juve che parte meglio perché comunque all'ottava non ottima occasione con Chiesa che prova una conclusione dalla distanza, tra l'altro la palla sbatte appunto su Cambiaso ma poi non riesce a centrare la piorta, la sfiora e c'è il brivido ma poi la Lazio va in vantaggio al dodicesimo e già lì capisci perché trovare il gol così subito all'inizio quando devi rimontarne due è sicuramente molto importante con un Tati, un Castellanos scatenato stasera che appunto trova Luis Alberto che dalla bandierina stacca perfettamente e serve appunto Castellanos stacco perfetto appunto di Castellanos che segna e un Alessandro colpevole ragazzi perché comunque viene completamente scavalcato e appunto trova il gol dell'1-0 alla sinistra di Perin con appunto la Lazio che riapre il discorso qualificazione poi la Juve ha comunque nel corso della partita 2-3 occasioni di cui uno appunto nel primo tempo con Vlaovic che si trova di fronte a Mandas che fa veramente una gran bella paratona, occasione questa grossa per la Juventus poi Perin è bravissimo a chiudere lo specchio su Castellanos sul finale di primo tempo che nega il gol e bianco celesti lì è un po' un concorso di colpa, forse anche Castellanos poteva calciarla meglio però bravissimo veramente Perin a rubargli il tempo appunto e a neutralizzare una possibile segnatura appunto della Lazio nel primo tempo mi sento di dire Male McKennie che ha perso palloni e fatto errori molto grossolani mi aspettavo magari venisse sostituito a inizio ripresa da Allegri invece comunque no, rimarrà nonostante un Allegri furibondo a fine partita che gli urla a fine primo tempo scusate che gli urla le peggio cose poi la rimonta della Lazio è completa con Felipe Anderson che dà a Luis Alberto che pesca appunto Castellanos qui colpevole la difesa bianconera soprattutto con Bremer in ritardo che perde Castellanos appunto che segna il 2-0 e pareggia il conto tra andate e ritorno dopo il 2-0 Juventino dell'andata è davvero una Lazio che in quel momento praticamente un po' si spegne perché poi dopo arriva la Juve la reazione Juve sul 2-0 Lazio viene fuori con Marosic che salva su Vlaovic ben servito da McKennie davvero un'altra occasionissima per il giocatore della Juve ma Marosic fa un intervento che vale gol veramente questo vale un gol un salvataggio veramente rocambolesco e due minuti dopo ancora Vlaovic spara alto una buona occasione poi per me oggi male anche Cambiaso McKennie meglio nella ripresa sicuramente ci vede che nello spogliatoio Allegri gli ha urlato le peggio cose male anche Cambiaso oggi sostituito appunto da UEA al settantesimo i cambi della Juve cambieranno il match perché appunto entreranno UEA e Ildiz per Cambiaso e McKennie e subito dopo poco dopo comunque entreranno insieme a Ildiz appunto entrerà Millic e uscirà anche Vlaovic come McKennie e questo sarà la partita il cambio che cambierà la partita cambierà radicalmente il match perché per assurdo dopo il gol appunto la Lazio cala non so se sia a livello appunto di fisico di quanto speso nel match è una Juve che prende un po' più coraggio tra l'altro veramente Marosic è un giocatore che con Tudor è rinato totalmente è molto bene la cura Tudor per Marosic e appena la Juve passa appunto a tre in avanti cambia la situazione con UEA che dà in mezzo e segna appunto Millic subentrato a Vlaovic due minuti prima e regala il gol qualificazione alla Juve è un 2-1 che lascia tante cose in sospeso soprattutto che è una Juve che con poco riesce a ottenere quasi sempre il massimo perché comunque sia anche a Cagliari non meritava il pareggio credo che i gioventini siano d'accordo con me e anche oggi se andiamo a vedere il computo totale non è che abbia fatto sta bella partita assolutamente però nel momento di maggiore difficoltà trova il gol che serve la cosa di cui mi sento di dire da tifoso esterno è che non capisco perché Allegri abbia aspettato così tanto a passare a tre perché dal momento che passa a tre la partita cambia è cambiata Cagliari è cambiata stasera quindi capisco la rabbia degli juventini con questo mister qui tra l'altro fine partita scappa negli spogliatoi cosa che fa spesso volentieri non ho visto neanche se ha salutato Tudor ma è molto maleducato molto spesso nei comportamenti tifosi laziali che ci rimangono veramente male però credo che debbano essere comunque contenti della buona prova della Lazio che ci aveva quasi creduto e c'era quasi riuscita nella rimonta io vedevo i supplementari ve lo dico li vedevo vicini e invece la Juve appunto con l'intuizione seppur ritardataria di Allegri trova il gol qualificazione alla fine le statistiche ci diranno possesso palla 57 43 per la Lazio tiri in totali 9 a 8 5 in porta per la Lazio e 2 per la Juve capite benissimo che la Juve ha tirato solo due volte in portata lui quell'occasione di Vlaovic che vi dicevo 5 calci d'angolo per la Juve e 2 per la Lazio e una Juve che è in finale di Coppa Italia l'unico obiettivo rimasto sì è vero quest'anno poi non aveva le coppe è una Juve che sicuramente in finale può far paura però obiettivamente ripeto sarà perché io a Bacero saprà perché so come è andata a finire quel famoso Mani di Bastos qualora dovesse andare in finale preferisco incontrare la Juve e ribadisco penso sia lo stesso per i fiorentini soprattutto fiorentini vista anche la rivalità con la Juve goderebbero il triplo a vincere appunto tie contro la Juve tie perché non voglio che ci vada la fiorentina ovviamente in finale staremo a vedere domani saremo qua ci troveremo speriamo festanti domani sera ragazzi tutti gli scongiuri del mondo sapete quanto io sia scaramantico oggi mi sono lasciato un po' andare non vi ho neanche salutato ciao a tutti mi raccomando iscrivetevi al canale ti vedete come prima metti un piacere commentate io lo sapete cerco sempre di dirvelo il meno possibile ma ovviamente se lo fate mi fa piacere perdete 30 secondi lasciare un like e un commento rispondo sempre a tutti con molto piacere grazie a tutti per essere andati a vedere il recap di serie A se non l'avete ancora visto andate a recuperare è uscito in post partita dell'Atalanta della Roma insomma un po' di roba è uscita quindi vi aspetto se amate il calcio seguitemi ciao ragazzi alla prossima ciao